Sapevi che in alternativa alla datazione fiscale c'è un incentivo del conto termico che ti viene erogato in pochi mesi, qualche anno al massimo e dipende dalle prestazioni della pompa di calore e dalla potenza della pompa di calore? Beh, ne parliamo oggi con l'ingegnere Enrico Rovere che è un tecnico specializzato proprio nel conto termico lo fa dal 2012, quindi conosce tutti i segreti ci spiegherà chi ha diritto al conto termico quali sono le procedure, quando sono i massimali come funziona insomma il conto termico prima di iniziare però, se non l'hai ancora affatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco così da rimanere aggiornato sul mondo delle pompe di calore Bene, eccoci qui allora, come promesso con l'ingegnere Enrico Rovere un tecnico che si è specializzato già ormai nel 2012 nel conto termico allora chi meglio di lui può raccontarci e rispondere alle nostre domande su quello che riguarda questo incentivo interessante, il conto termico ciao Enrico intanto Ciao Samuele e ciao a tutti i tuoi followers Ecco Enrico, allora direi di iniziare da subito per entrare nel dettaglio del conto termico l'obiettivo è raccontare in maniera semplice a chi non fa questo di lavoro come può accedere e cosa significa conto termico allora tu di che cosa ti occupi nello specifico? Nello specifico mi sono proprio specializzato a partire appunto dalla prima versione del conto termico del 2012 e poi nella seconda versione, quella attuale diciamo del 2.0 nata, uscita nel 2016 mi sono specializzato nel cercare di portare il servizio completo per quanto riguarda le pratiche di conto termico per diverse tipologie di clienti, dalla signora Maria, la famosa signora Maria cliente finale privato agli installatori, agli colleghi progettisti che non hanno magari avuto tempo di studiarsi il conto termico a aziende, a pubblica amministrazione, un po' a tutti insomma Ok, ma allora chi è che eroga questo conto termico? Cosa, chi è l'ente che dà questo contributo? Per prima cosa, questa è una cosa un po' personale tra virgolette, ci tengo perché chi già mi segue lo sa e non vale solo per il conto termico è una buona regola per tutto, per la progettazione, per gli altri bonus eccetera però la regola numero uno è arrivarci prima e pensare prima esaminare il caso prima e decidere consapevolmente cosa fare banalmente chi arriva dopo nel caso del conto termico che magari non ha più fatto una foto, ha già rottamato il generatore vecchio e non si può più fare, poi tante volte si riesce comunque a rimediare con più fatica però se si fosse arrivato in tempo la cosa sarebbe stata molto più semplice Allora, mi hai chiesto chi è che eroga l'incentivo Allora, parliamo del gestore dei servizi energetici, il GSE perché non stiamo parlando di detrazioni fiscali, quindi l'Enea qui non c'entra nulla Non è una detrazione fiscale E quindi se non è una detrazione fiscale, anche chi non ha capienza fiscale può usufruire di questo incentivo? Assolutamente sì, questo è uno dei motivi principali anche perché è una persona interessata al conto termico e come dico sempre, ogni cliente ha una storia a sé uno perché magari sono meglio pochi maledetti a subito rispetto magari più tanti in dieci anni oppure per fare l'esempio classico ci sono clienti che proprio o non hanno capienza o l'hanno finita o come i forfettari, ed è sempre una partita ormai anche grande non possono proprio detrarre quindi gli conviene prendere l'incentivo del conto termico poi dopo vedremo le tempistiche che sono piuttosto rapide e l'incentivo quindi di conseguenza non è una percentuale delle spese ma per ogni specifica categoria di intervento che poi dopo vediamo c'è una specifica formula con dei limiti basati sulle, per quanto riguarda gli impianti sulle caratteristiche del generatore incentivato potenza, COP per la pompa di calore le polveri per la biomassa il rendimento del pannello solare termico, eccetera Ok, ma il GSE è lo stesso per il fotovoltaico? Esatto, sì, è sempre lui che ha gestito sia tutti i 5 conti energia che gestisce il portale è sempre quello, c'è un portale generico del GSE infatti può capitarmi, capita ormai spesso che un cliente sia già registrato al GSE perché ha l'allaccio dell'impianto fotovoltaico e quindi tramite il suo accanto bisogna recuperare un PIN per poter poi io lavorare da delegato e tornando al discorso di prima che non è una detrazione fiscale la cosa importantissima oltre al fatto che per le fatture e i pagamenti ci sono delle specifiche regole ma la più importante è appunto che in questi documenti non ci sia alcun tipo di riferimento alle detrazioni fiscali perché è motivo di bocciatura, di diniego immediato a sottolineare il fatto che stiamo parlando di un incentivo che non è una detrazione fiscale ma sono soldi cash sul conto corrente Chiara, chiara Ma allora chi è che ha diritto a percepire questo incentivo? Allora ci sono due categorie di interventi la categoria 1 e la categoria 2 partiamo dalla categoria 2 a cui possono accedere i soggetti privati per privato si intende privato vero e proprio Mario Rossi giusto per non tirare sempre fuori la signora Maria e le aziende queste 5 categorie 2A, 2B, 2C, 2D, 2E che sostanzialmente sono tutte delle rottamazioni di un qualcosa esattamente come per gli incentivi sulle automobili tranne il 2C che è il solare termico che può essere anche una sostituzione di un vecchio impianto obsoleto ma è praticamente una nuova installazione di solito mentre gli altri sono sempre sostituzione di impianto termico con la pompa di calore 2A sostituzione di alcune tipologie di impianti o meglio alcune tipologie di combustibili con l'impianto a biomassa e l'installazione del solare termico l'abbiamo detto la sostituzione del scaldacqua elettrico e sottolineo solo elettrico con scaldacqua pompa di calore e la sostituzione di impianto con sistema ibrido poi ci sono l'intervento di categoria 1 a cui ha diritto solo la pubblica amministrazione e sono tutta una serie di interventi principalmente sull'involucro strutture opache, strutture trasparenti illuminazione, edificio Enzeb e in più la caldaia e condensazione ancora per la parte di impianti e le pubbliche amministrazioni possono fare tutta questa categoria più tutti quelli che abbiamo visto prima per i privati sia la categoria 1 che la categoria 2 Ok, ma per le pompe di calore come viene calcolato l'incentivo? Cioè non mi interessa capire bene la formula perché magari può essere un po' complessa ma su cosa si basa il calcolo dell'incentivo? Allora, prima abbiamo detto che per ogni tipologia di intervento appunto c'è una formula che non ha neanche senso entrare nel dettaglio però per i generatori di calore fondamentalmente sulla base della zona climatica che sarà per ogni cliente ovviamente quella è fissa l'incentivo varia in funzione della potenza per le pompe di calore nel dettaglio della potenza del COP e se hanno inverter sì o no perché va a variare il limite richiesto Ok, quindi più è performante la pompa di calore quindi più ha un COP più alto e più alto è l'incentivo Esatto Ok, chiarissimo Ma immagino che questi contributi abbiano una capienza massima cioè ci sarà un limite in cui lo Stato non può più erogare questo tipo di contributo quindi c'è un budget a disposizione come funziona? Per il conto termico ci tengo a dire che non c'è mai stato un problema di soldi, di mancanza di fondi anche se ogni tot deve andare a smentire qualcuno che scrive questa cosa da qualche parte Sono stati stanziati 900 milioni 700 per i soggetti privati 200 per la pubblica amministrazione e non siamo mai arrivati lontanamente a sfiorarli perché sono accumulati anno ovvero c'è il contattore che tiene conto delle varie rate dell'incentivo negli anni e tiene questi livelli e siamo sempre stati lontano sul mio blog ogni volta che il GSS che sul suo sito aggiorna il contattore faccio l'articolo e riporto i grafici e le cose c'è stata una modifica nel maggio del 2023 che ha spostato 200 milioni dai 700 per i soggetti privati ai 200 portandoli a 400 della pubblica amministrazione ma per ora il problema non sussiste Ma per accedere a questi fondi a questi contributi ci vuole una prenotazione? Cioè il privato deve prenotarsi? Allora in generale ci sono due modalità di accesso L'accesso su prenotazione è una facoltà solo per la pubblica amministrazione molto comoda perché sostanzialmente iniziano a fare diciamo così mezza pratica a dire farò questo intervento spenderò tot mi viene dato un sì in modo che gli arriva già metà dei soldi prima che inizino finiscano i lavori e poi si conclude alla fine mentre l'accesso classico che è l'unico a cui possono accedere che devono seguire i privati è l'accesso diretto ovvero la pratica si fa a fine lavori a lavoro fatto dopo con delle determinate tempistiche rispetto alla fine lavori Allora andiamo un po' nel concreto c'è un massimale di questi incentivi cioè posso prendere quanti soldi voglio che in quanti anni viene erogato cioè come funziona? Allora certamente mentre ricordo che prima abbiamo detto che l'incentivo massimo per un determinato generatore arriva da una formula in cui contano le sue caratteristiche di potenza di efficienza diciamo della zona climatica dobbiamo dire che per i generatori fino a 35 kilowatt parliamo di un incentivo erogato in due rate e sopra i 35 kilowatt erogato in cinque rate idem rispetto a sopra sotto i 20 metri di solare termico per esempio due rate e cinque rate il conto termico 2.0 una delle novità più grosse che aveva portato nel 2016 rispetto alla versione precedente è stato che se l'incentivo è fino a 5.000 euro la rata diventa comunque una sola ok quindi e non è neanche detto adesso lo vediamo che rata equivale ad anno cioè due rate due anni e cinque rate cinque anni perché può anche venire meno adesso poi vediamo il perché c'è anche il limite di base che l'incentivo non può superare il 65% delle spese ammissibili e per farla veloce le spese ammissibili sono tutte quelle che servono a fare quell'intervento non solo sul generatore ma anche su tutto l'impianto ok quindi non c'è quasi mai il problema di non avere le spese per prendere il massimo dell'incentivo quasi mai questa percentuale del 65% può variare per le partite per le aziende in base alla loro dimensione se sono piccola media o grande impresa con una tabellina che c'è in questa slide e l'altra cosa importante che faccio sempre questo esempio se la nostra pompa di calore calcoliamo l'incentivo massimo e viene fuori che in quella determinata zona climatica era è 6500 euro cosa vuol dire che l'incentivo non può superare il 65% della spesa vuol dire che il cliente prende 6500 euro se ha almeno 10.000 euro IVA compresa se è un privato IVA esclusa se è una partita IVA di spese quindi se ne hanno solo 8.000 prendono 65% di 8.000 se ne hanno da 10.000 in su 15, 20, 1 milione prende sempre l'incentivo massimo di 6.500 euro calcolato sul generatore con le sue caratteristiche e questi sono i limiti per quanto riguarda le tempistiche che mi chiedevi passiamo qui e vi dico queste due o tre cose allora tutto è basato sulla fine lavori ovvero per quanto riguarda gli impianti lo ha rispecificato un annetto fa il GSE non è che si può mettere a portare una data qualunque ma deve coincidere come ho sempre fatto dal 2012 con quella della dichiarazione di conformità e c'è un range di 60 giorni avanti e 90 giorni indietro da questa fine lavori 60 giorni in avanti per inviare la pratica che aggiungo se è stato preso il lavoro in tempo come poi vi spiegherò dopo e si fa molto prima se mi è arrivato appena mi arriva tutto quello che è l'elenco della spesa con le cose che servono personalmente sono più veloci di 60 giorni e ci deve essere almeno un pagamento non più indietro ovvero negli ultimi 90 giorni dalla fine lavori questo pagamento e non la fattura ma il pagamento maggiore del 10% del totale delle spese ammissibili che si sono inserite nella pratica anche questo arriva ad un chiarimento vi evito tutta la storia degli dieci anni precedenti sul mio blog la trovate ma in soldoni la regola ora è questa il GSE ha poi andando nella riga sotto della slide a 60 giorni per dire ok oppure richiedere integrazione a quel punto riscattano delle 30 giorni per rispondere poi si può ancora replicare una volta però arriva la risposta se arriva la risposta positiva si accetta a portale l'esito positivo e questa accettazione cade conta dove cade a livello di bimestre l'incentivo viene erogata la prima rata o l'unica rata nel caso che abbiamo detto prima di incentivo minore di 5.000 euro l'ultimo giorno del mese successivo al bimestre in cui si è attivato il contratto tradotto attivo il contratto dal primo febbraio dal primo gennaio scusate al 28 febbraio il bonifico parte il 31 marzo e così via di bimestre in bimestre banalmente a quando si invia quanto tempo ci mette il GSE a rispondere e quando cade in che giorno cade l'attivazione per qualcuno può sembrare che in 40 giorni dalla fine lavori prende l'incentivo e l'altro può sembrare 3, 4, 5 mesi per la prima rata o per il totale dell'incentivo se minore di 5.000 euro parliamo di mesi per un incentivo piccolo parliamo di mesi se è una rata unica diciamo 6 mesi poi magari sono meno quindi non è una rata annuale e se sono due rate diventa un anno e mezzo neanche due ok ah perfetto molto interessante insomma senza aspettare i 10 anni esatto beh tornando a noi questo incentivo è cumulabile con la detrazione del 50% del 65% allora di base il conto termico non è cumulabile sullo stesso componente con ecobonus e bonus casa questa è la cosa classica ah ok ok e però rispetto magari ad altri incentivi che ci sono tipo quelli regionali allora esistono premesso che il discorso cumulabilità è abbastanza complesso anche nelle regole applicative del conto termico più da fiscalisti ok io di solito fornisco le regole del conto termico che vanno confrontate con quello che c'è scritto nel bando nell'incentivo che stiamo esamiando e quindi è una cosa bidirezionale ok e per quanto riguarda la pubblica amministrazione è molto più cumulabile con più tante cose in generale mi sento di dire questo sempre con il limite del 100% per quanto riguarda i privati per esempio con incentivi non statali come bandi regionali e delle province autonome infatti ce n'è parecchi da parte mia anche troppi dovrebbero essere tutti uguali invece c'è troppa confusione anche in quel senso per esempio ci sono almeno una dozzina di bandi trattivi da riattivare regionali di province autonome per incrementare il conto termico quando si va a rottamare sostituire della biomassa delle parecchie biomassa molti di questi prevedono anche la sostituzione con pompa di calore e questo è cumulabile ognuno con le sue regole aggiuntive al conto termico e ognuno con i suoi limiti quindi ci sono parecchi sempre restando nel 100% delle spese ovviamente c'è chi arriva al 100 chi arriva al 90 chi dà una cifra fissa in più al conto termico è molto variegata la cosa di base quei bandi che conosco io partono tutti dall'incentivo 2B che abbiamo visto prima della sostituzione di determinati impianti con biomassa ma solo quando sto sostituendo già della biomassa e non per esempio del gasolio e aggiungono delle regole sugli apparecchi a biomassa nuovi o sulla pompa di calore quindi ci sono diversi contributi regionali attivi di cui se ne parla veramente anche poco per sostituire la biomassa con le pompe di calore esatto ok ok e poi visto che siamo verso la chiusura per le aziende vale la stessa regola nel senso che può accumulare un'azienda tanto l'azienda ha diritto come abbiamo visto al conto termico e può cumularla ad esempio rispetto a degli incentivi dell'industria 5.0 mi dici che occorre sempre verificare e fare un incrocio con quello che prevede il bando su questo di solito sono aspetti prettamente fiscali si mette sul piatto sempre arrivandoci in tempo cosa dice A verso B cosa dice B verso A e col fiscalista si decide ok ricado posso farlo ok non posso farlo ok ok super bene te come come operi qual è la tua procedura insomma per intanto a chi ti rivolgi nelle tue attività i miei clienti sono fondamentalmente un po' tutti dai clienti finali privati alle aziende alla pubblica amministrazione ai rivenditori ai professionisti i miei colleghi agli installatori un po' a tutto diciamo tendenzialmente magari professionisti quando si tratta di impianti un po' più grossi che tanto occorre per forza per legge ma anche per le regole applicative del conto termico la progettazione e io mi affianco sempre arrivandoci prima che alla fine ribadisco la cosa più importante si esamina il caso e gli si va a dire tu stai facendo il tuo progetto in un determinato modo tieni presente questa richiesta sulla regolazione questo poi modalità di pagamento eccetera eccetera si va a inquadrare la cosa in modo da minimizzare i problemi che si possono avere ok ok e il tuo flusso operativo qual è allora? allora io a tutti fondamentalmente diciamo ho chiamato questo sistema ormai da tanti anni metti il tuo incentivo al sicuro e fondamentalmente premesso che questi video che nomino sono aperti sul mio canale youtube normalmente uno con un taglio per i privati signora Maria aziende uno col titolo rosso che vedete lì con un taglio per gli addetti ai lavori diciamo la sequenza è sempre andare sul mio sito registrarsi gratuitamente guardare il video entrando nell'area riservata e poi c'è un questionario preliminare in totale la prima volta sono tipo 14 minuti la seconda volta se si è un installatore si va direttamente al questionario ci vuole un minuto e mezzo a compilarlo io richiamo esaminiamo tutto quello che c'è da esaminare se ho questa foto non ho questa foto tolgo questo metto questo è proprietario non è proprietario tutto quello che c'è da vedere si ci accorda se si va avanti consegna un report dedicato pratica per pratica con tutto quello che ci siamo detti il promemoria di cosa c'è da fare prima e anche dopo che mi sento di dire che è la differenza rispetto a molti altri e anche libretti di impianto conservare le fatture della biomark cose che magari alcuni omettono anche di dire e poi alla fine lavori mi viene detto ho tutto mi arriva la roba e si fa poi la pratica alla fine penso che insomma se è iniziato nel 2012 proprio quando è uscito di segreti e di astuzie ne conosci anche io tra l'altro 2012 è il stesso anno in cui ho mollato tutto per dedicarmi alle pompe di calore quindi abbiamo intrapeso le strade insieme ognuno per il suo il giorno che ho preso in mano le regole applicative il decreto 28 febbraio 2012 o 28 dicembre 2012 era quello e me lo ricordo proprio bene era estate all'ombra sotto una pianta ho preso questo faldone e ho iniziato e ti assicuro che non c'era tutto quello che c'è adesso che ci sono ancora dubbi problemi con il GSE regole non regole zone grigie tutto questo prendere prima in mano una situazione per limitare questi problemi qualche colpo di coda il GSE nel tempo chi mi segue lo sa lo ha fatto sono sempre comunque domande di incentivo firmare col sangue prima l'esito positivo deve essere chiaro che non è così poi chi si fa un giro sul mio sito vede scritto 100% bene Enrico grazie della tua tempo della tua disponibilità per averci condiviso insomma anche come funziona questo conto termico che penso potrebbe essere interessante per il prossimo futuro grazie a te Samuele sì assolutamente ci saranno anche probabilmente novità nel prossimo futuro e invito a seguirmi sul mio sito sul mio canale youtube sui vari social in modo da restare sul pezzo e probabilmente ci potrebbero essere anche buone novità proprio per le pompe di calore bene grazie mille allora Enrico e ci sentiamo per la prossima grazie ancora a te e un saluto a tutti ciao 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 ciao